Ciao! Se sei un'impresa o un libro professionista e negli ultimi mesi hai installato una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici o la vuoi installare adesso, puoi richiedere ad Invitalia un contributo per rientrare nei costi che hai sostenuto. Insomma, si tratta di un bonus pari al 40% delle spese che hai dovuto affrontare, come per esempio l'acquisto della colonnina di ricarica, i dispositivi di monitoraggio o le modifiche all'impianto elettrico o le opere idili che hai dovuto fare per installarla all'interno o del tuo garage o del parcheggio della tua ditta o del tuo ufficio. Cosa devi fare per accedere al contributo è molto semplice. Vai sul sito di Invitalia, accedi con speed o CE all'interno dell'area riservata e clicca su bonus colonnine per imprese e professionisti. Dopodiché registra la tua impresa attraverso l'anagrafica o con la partita IVA o col codice fiscale. Descrivi l'intervento e inserisci le fatture delle spese che hai sostenuto. Dopodiché firma digitalmente la domanda e ricorda che serve una PEC valida per perfezionare la richiesta. E fai clic su invia. Da quel momento Invitalia prende in carico la tua domanda. Verificheremo i tuoi documenti e se qualcosa manca ti chiederemo un'integrazione. Fatto! Faremo un bonifico direttamente sul conto corrente della tua azienda all'Iban che hai inserito all'interno della compilazione della domanda. Ah! Un'ultima informazione importante. Se la tua impresa ha sostenuto un investimento superiore a 375.000 euro, puoi inviare la domanda soltanto tramite PEC. Se hai altri dubbi o altre perplessità, vai al suo studio di Invitalia e lì potrai trovare tutte le informazioni che non sono riuscita ad inserire in questo video. Ciao! 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 Ciao!